Ciao amici, alcuni di voi ci hanno chiesto come mai quest'anno abbiamo dato particolare attenzione alla Basilicata. Perché? Perché nel 2019 abbiamo fatto un insieme di reportage Servizi per Rari per raccontare questa fantastica regione e tutte le sue sfacce da pure. Noi abbiamo detto, ma perché non raccogliamo i migliori filmati, i migliori video e realizziamo proprio un percorso Basilicata dalla alla zero? Ed ecco allora questa serie di video che avete potuto apprezzare e speriamo anche di farvi rivivere da qui al prossimo futuro. Anzi, vi dirò di più, nel prossimo futuro i migliori spezzoni vi troverete in una nuova piattaforma che potete tranquillamente scaricare e riutilizzare nei vostri video e nei vostri filmati per ottenere così dei filmati unici e degli di nota. E voi cosa aspettate? Qua sotto troverete tutte le specifiche della nuova piattaforma. Buon volo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!